Tendi l'orecchio e ascolta la natura. Semplice farlo nel secondo parco italiano per estensione. Il parco del Cilento e del Vallo di Diano. Il rumore delle onde e delle aree costiere, fatte di piccole spiagge spesso raggiungibili solo con sentieri, zone montuose con ruscelli, rupi e foreste che fanno da habitat naturale a una ricca fauna dall'elevato valore naturalistico. La Certosa di Padula è un imponente monastero barocco e ospita al suo interno uno dei chiostri più grandi del mondo. Giardini all'italiana, porticati, scaloni monumentali di forma ellittica rendono magico questo luogo. Entrando da est si passa dal lungo cortile che ospitava le botteghe certosine. L'interno è di un imponente barocco con stucchi decorati e pavimenti in maiolica. La Certosa di Padula racconta con grande forza 450 anni di storia fatta di monaci certosini, visite di re, accoglienza ai pellegrini e partenze di cavalieri crociati. Città natale di illustri filosofi come Parmenide e Zenone che hanno vissuto per queste strade e sfiorato con le loro mani le mura, le torri e le porte che ancora oggi vengono arroventate dal sole del sud e scrutate dagli occhi di tantissimi turisti. Velia è la testimonianza vivida e reale di una cultura che sopravvive ai popoli che l'hanno creata. Di una civiltà lontana ma che ancora oggi fa sentire la sua influenza. Portici, colonne, lunghi corridoi e aree a cielo aperto danno il benvenuto ai visitatori dell'area archeologica di Pestum. Il sito di Pestum permette di sentirsi per un giorno parte di quella storia della quale noi siamo figli. Opere con più di duemila anni ci pongono davanti a domande profonde sull'importanza delle nostre radici. Grazie a tutti.